Un nuovo mandato per la presidenza dell'Associazione Diabetici Aretini. Sì, avevamo iniziato un lavoro e ieri abbiamo avuto la conferma che questi progetti sono andati a buon fine. Tra l'altro con ieri probabilmente dal prossimo mese avremo anche donata da un'azienda Orafa anche una macchina per l'emoglobina glicata che sarebbe una cosa importantissima per qualsiasi persona perché dà il metro di come uno vive una situazione in senso generale fisicamente. Però per il resto diciamo che abbiamo aggregato il Casentino che è con noi, con Giaccarlo Martini poi dopo stiamo guardando di portare a buon fine anche il discorso del Valdarno perché l'anno scorso è morto Paolo Magrini e da quel momento l'associazione ancora non si è riconfigurata e noi stiamo aiutandoli perché questo avvenga. E poi dopo la Valtiberina ci stiamo dando da fare in modo tale e l'importante è una cosa che siamo tantissimi quando si va dal direttore generale a chiedere qualcosa. Ecco, le associazioni, questa sicuramente è tra quelle, insomma sono un bel punto di riferimento per i malati perché fanno proprio da filtro tra insomma quello che serve e chi i servizi li deve erogare. Certo, questo è importante, c'è anche da dire che più che filtro in questo momento servono da difesa da difesa è importante perché tante cose che sembrano acquisite vengono a mancare o ci provano a farle mancare. Ricordiamo come si fa a prendere contatti insomma con l'associazione Diabetici Aretini. Beh, io spero che tu mi conceda un piccolo spazio, dieci minuti magari in quelle che sono le tue interviste a tu per tu in modo tale da poter dare tutto, in modo tale anche che la gente sappia quando può venire una volta al mese per fare in modo corretto questo stick è importante che nelle farmacie costa 15 euro. Noi vorremmo stare vicini a coloro che magari non possono neanche spendere 15 euro e almeno daremo in quella occasione lì quando la macchina è acquisita daremo le indicazioni.